Mattia Morello commentare questa vittoria importante, sono tutti importantissimi adesso i punti che si conquistano a così poche giornate dalla fine, adesso insomma il vantaggio rimane a 6 punti, Modena ha tenuto a distanza una domenica importante Sicuramente, gli abbiamo tenuto a 6 punti a distanza e manca sempre una partita in meno ci mancano 4 punti per raggiungere il nostro obiettivo e oggi abbiamo fatto una grande partita soprattutto di sacrificio perché dopo essere andati in vantaggio di due gol, c'è a dire che abbiamo sofferto però da grande squadra siamo compattati e siamo riusciti a portare a casa i 3 punti Si poteva fare qualcosa di meglio in contropiede, insomma ci avete provato ma il terzo gol non è arrivato Sì, sicuramente secondo il tempo potevamo sfruttare un po' di più di spazi che si erano creati perché loro erano molto alti però non siamo riusciti a chiuderla definitivamente, loro poi hanno trovato un gol fortunoso però siamo stati bravi, ripeto, a difenderci tutti insieme, tutti 11 sottolineando la palla e a portare a casa questa vittoria che era importantissima Quindi adesso, insomma, domenica, giovedì si gioca con il Calvina una squadra che mi lotta per la retrocessione quali difficoltà ci saranno e quanto è importante la gara? La gara, sono tutte importanti le gare, sicuramente sarà una gara come quelle che sono state, quelle di Classice, quelle di Pavia saranno gare difficili dove loro si chiuderanno tutti dietro cercando di non prendere gol cercando magari di portare via un punto e noi dobbiamo essere bravi, magari anche in contropiede, a portarla a casa Grazie 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 Grazie